Si ruba di tutto nelle campagne del Cilento, dalla frutta agli ortaggi, dalla benzina agli attrezzi agricoli. A causa della crisi la Coldiretti denuncia il boom di furti in tutta l'area degli Alburni e nella vasta zona cilentana, un fenomeno in aumento ma che è cambiato nel corso degli anni. La Coldiretti provinciale di Salerno esprime preoccupazione per l'escalation delle razzie a danno degli agricoltori. Nelle ultime settimane sono giunte numerose segnalazioni agli uffici da parte dei delegati territoriali e in molte aree si stanno già organizzando ronde notturne di agricoltori. Siamo preoccupati non solo per le imprese agricole, spiega il presidente Vittorio San Giorgio, ma per tutte le famiglie che vivono in aree rurali, più isolate dalle altre e per questo maggiormente a rischio. Comprendiamo che le forze dell'ordine fanno già il massimo per controllare adeguatamente il territorio. Chiederemo però un incontro al prefetto e al questore per valutare eventuali azioni sinergiche, tese a contrastare l'ormai preoccupante fenomeno dei furti nelle campagne e nelle case rurali.